Questa è una prova per dare un'interpretazione di tipo geometrico alla disuguaglianza triangolare. Incominciamo col disegnare un triangolo di vertici ABC. Indico con A il lato in verde BC, con C il lato più lungo BA e con B il lato AC. Quindi abbiamo che A è minore di B, minore uguale di B, minore uguale di C. A questo punto, per far vedere che ciascun lato è minore del semiperimetro, faccio vedere che il lato C, che è il più lungo, è minore del semiperimetro. Procedo con una costruzione geometrica abbastanza intuitiva, e cioè riporto sul lato AB i due lati verdi e rosso. Dopodiché li proietto ortogonalmente su una retta parallela alla retta AB. Procedo con la costruzione. Traslo il segmento rosso a questo punto depositato su AB, in modo da accostarlo al segmento verde, posizionato più in basso. Dopodiché si ha che evidentemente il verde più rosso è maggiore, come indica la disuguaglianza triangolare del segmento C dell'ipotenusa. Bene, facciamo vedere adesso che aggiungendo il lato più lungo, C, che adesso vado a disegnare in blu, a entrambi i lati, sia AB sia quello più in basso, si ottiene ancora un'ovvia disuguaglianza. Cioè quello sotto che risulta essere uguale al perimetro verde, accostato a rosso, accostato a blu, è maggiore come misura della lunghezza di due volte C. Pertanto C è minore del semiperimetro. A questo punto, ulteriore giochino, ho evidenziato queste finestre, spunto le varie caselle e cancello gli elementi che non mi interessano, visualizzando effettivamente la figura che mi interessa.